ok guardate questi bei memes andiamo a fare un sacco di meme sul mio canale con questi iniziamo ok iniziamo what gives stefano feelings of power money status speciali e sì sì proprio prossimo me stefano pubblica la reazione della ytp e fa un sacco di views sempre stefano in terms of subscribers we have no subscribers esatto perché questa raggiunto 317 visualizzazioni ovviamente video e vi dovete iscrivete no lo guardate e lasciate solamente dislike cioè ma voi sono stupidi cioè c'è c'è questo andrebbe meglio con qualche ritocco in più ok questo sono tutti gli stickers che ho potuto mettere cioè solamente da cioè iscrivetevi solamente per questo meme ok stefano che cerca di preparare la mia la memoria del suo prossimo video why do i not fix i dot aspetta ok come sapete why do i not fix everything i touch perché infatti allora questo è un problema che ricorreva a qualche tempo fa allora mi ero già scaricato netflix e sapete quanto può pesare netflix un bottiglio può pesare va bo comunque me l'ho scaricato e mi si ritrova e dovetti cancellare tutti i dati tutte le applicazioni da partire da questa e adesso ho incontrato questo problema molto ma molto graduale spero che ti venga il cancro ideatore di questa cosa spero che te lo venga come aspetta però adesso non meno non meno monetizzano il video oh my goodness stefano che insulta chi non si è iscritto al suo canale view perché mettono che vedono il video per mettere dislike esatto infatti la reazione di camper su minecraft ha fatto 67 dislike e voi non vi siete manco iscritti adesso dovete iscrivervi subito allora i tuoi video fanno schifo iscritti allora stefano if I could read they'd be very upset questo 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 meme è leggendario allora in realtà ci sono stati alcuni momenti in cui voi mi dicevate io faccio schifo iscritti vabbò tutte altre cavolate e non c'è stato niente ma comunque passiamo al prossimo ok fare pochi video con gli amici fare più video aggiornata video video lego solo vlog stefano nei primi anni sì esatto come sapete facevo un sacco di video per giornata nei primi anni tipo avevo fatto un sacco di gameplay lego poi ho smesso un attimo perché ho pubblicato un po troppi video per giornata adesso faccio solamente un video aggiornata come tutti gli youtubers per essere fichi comunque comunque capendo che che solamente vlog e perché trovavo più idee nel fare dei vlog che fare dei giochi poi adesso è arrivato a questa applicazione e ci ho ritrovato un po di gusto poi c'è video lego come sapete l'avevo aperto quando ancora pubblicavo un sacco di video quando ero appassionato dai lego adesso non ho più passioni forse un pochino forse ce l'ho per la musica voglio dire e fare un video vabbè comunque fare pochi video con gli amici che volevo fare un po di video vabbò comunque e poteva essere più video con gli amici perché ero invitato invitavo un sacco di amici alle feste ed era molto bello ok Stefano che metti like al suo stesso video non so chi si ricorda il video di lego marvel avengers di tutte le armature di iron man ma per quel che motivo mi ero messo un mi piace da solo wow incredibles vabbè comunque passiamo al prossimo meme nessuno Stefano nei suoi video ah 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 la quarta parete ho rotto vabbò che parliamo tutti di quanto io sia vabbò comunque passiamo al prossimo meme Stefano che cancella i suoi video memoria troppo piena guardate un po qua o ovvero comunque ma il Reddit è diventato comunque ho cambiato un po spunt facciamo un bel meme allora cosa compone Stefano Super Gamer il lego marvel avengers stabs stefano i micro giochi scribble notes shove down e le pronti il malessere sono le reaction che infatti sono il malessere perchè vabbò ne ho fatte abbastanza in questo ultimo mese e mi sono accecato aia yeah pimples zero blackheads zero iscritti che fa Stefano ovviamente zero dai per favore allora Stefano che fa prima lui la reazione ai noob che la fanno anche loro si capito che però come sapete io non sono questo masochista ma però vabbò comunque ultimo meme ok e per ultimo io viuv Stefano in tutta la storia del suo canale che fa tipo un sacco di viuvs vabbò comunque ci vediamo al prossimo video ciao e sperando che il mio tablet non dica memoria troppo vabbò ciao ciao Grazie.